Gianluca Emanuele, presidente della neonata associazione di ristoratori del comprensorio Gerese Ionica, sfoga tutta la sua rabbia in seguito alle nuove misure restitive per contenere i contagi da Covid, dopo che la Sicilia, poco meno di un mese dalla Pasqua, è tornata ad essere in fascia arancione. Ormai siamo diventati carne da macello, afferma Emanuele. Siamo nuovamente nelle condizioni di un anno fa, con il comparto ristorazione fermo, le attività chiuse e soprattutto senza ristori. Siamo di nuovo nella stessa condizione di un anno fa, esattamente un anno fa. Siamo di nuovo fermi, siamo di nuovo chiusi, siamo senza ristori. Ci hanno costretto e abituati a lavorare solo a pranzo, soprattutto nei fine settimana. Ci eravamo adeguati in tutto e per tutto e all'improvviso ci richiudono tre settimane prima di Pasqua, senza avere una certezza né di riaperture né di ristori. Chiamateli come vuoi, sostegni, aiuti. Però penso che per le aziende come le nostre, per le attività come le nostre, per le palestre, per le altre categorie devastate, sarebbe stato più giusto dire questi sono i nostri aiuti, rimanete chiusi, superiamo il periodo di Pasqua. Ma tre settimane prima di Pasqua credo che sia stato un po' eccessivo chiuderci definitivamente, anche perché i contagi sappiamo che sono scesi, quindi non si sta capendo più niente. Vorremmo capire cosa hanno in testa, cosa vogliono fare questi nostri signori governatori e amministratori nei nostri confronti. Ci avete scambiato per carne e da macera. Siamo stanchi, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di guadagnare, di portare avanti le nostre famiglie e ci avete riabbandonati un anno dopo, nelle stesse identiche condizioni.